Domani arriva il Verona, che cosa vi aspettate e che partita sarà? Sicuramente è una partita di un quarto di finale dei play-off, quindi è una partita importante e loro sono una grandissima squadra, piena di grandi giocatrici con grande esperienza e mi aspetto una partita combattuta. Il nostro obiettivo qual è? Quello di cercare di metterle in difficoltà il più possibile. Loro sono una squadra di tutto rispetto, hanno fatto un bel percorso, però sono fiduciosa, sono abbastanza tranquilla, mi fido ciecamente delle mie compagne e del lavoro che abbiamo fatto per tutto quest'anno, quindi non vediamo l'ora di entrare in campo. Insidie particolari da parte loro, qualche giocatrice da tenere particolarmente sotto controllo? Sicuramente una su tutti, Roberta Bianconi, che è una grandissima giocatrice dotata di un tiro formidabile, oltre ad essere la giocatrice più esperta della loro squadra. Poi hanno due straniere, hanno un ottimo portiere, gragnolati, è un'ottima attaccante dotata di un nuoto pazzesco, quindi sono ben fornite. Punti di forza, qualcosa su cui farete affidamento in particolare? Ma giocheremo semplicemente di squadra, faremo le cose che abbiamo provato, che proveremo, che abbiamo provato e niente, comunque affronteremo la partita con il sorriso e vedremo come andrà a finire.